L'amore è incredibile. Ho visto Luca e Vale parlare per la prima volta e oggi siamo qui in Puglia a celebrare il loro amore eterno. Grazie a tutti. E' stato bello vedere il vostro percorso fin qui. Avete affrontato tante difficoltà. Avete investito tanta energia e forza in voi due come coppie. Siete l'esempio perfetto del potere dell'amore. Oggi è l'inizio di un nuovo capitolo. Oggi è l'esempio perfetto di un'esempio. Oggi è l'esempio perfetto di un'esempio. Oggi è l'esempio perfetto di un'esempio.